Buongiorno a tutti, sono veramente lieto di vedere l'interesse che ha suscitato questo argomento in particolare per gli attenti ai lavori che sono a fondo che intervengono per prima cosa succede con un incidente statale. Si quindi cambia anche da parte degli operatori che vedono intervenire in occasione di un soccorso la loro preparazione. Nel nostro territorio, la nostra provincia, su 30.000 interventi all'anno che sono inizio di fuoco come servizio tecnico urgente, circa 1.000 sono dedicati agli incidenti stradali. I vetri delle autovetture moderne possono avere i vetri laterali e posteriori come il parabrezza. Grazie. 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 Grazie.